Ben a tutti ragazzi, sono Alex Io sono Gisius e oggi ripetiamo con Crysis 3 E guardate che capelli fighissimi Gio, li voglio anch'io Eh, va bene. Ah, sì, bello Non ci si vede una minchia! Aspetta, facciamo capire Questa è fuoco? Fa male? Wow, non abbiamo neanche la visione Abbiamo una pistola! Sì, possiamo sparare Allora No, c'è Wow No, non c'è più Ah, no, ok Eh, io non cadrei di cuore Ve lo dico, ve lo dico da subito Non cadrei da lì Dimmi che non siamo all'inizio No, no, non c'era questa parte Wow Dica, io direi che sono caduto Blu Sì, sono caduto Vuoto di sciolato Ah, no, ok Sì, si chiamavano Wow Oh, come c'è Eh, figa che Bella tratta Bella tratta Bella tratta qua Un po' umida, mi dicono Fica umida che faccia bollare Eh, va bene Eh, va bene Un po' c'è anche Devo notare proprio Figa ma il nuoto più veloce di Pikachu cosatista Cosa? Non lo so Cazzo Nooo 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 Stai soccommendo la ruota Stai cadendo da un dirubato 5 metri No Ok, persino che mi scelci a farlo È vero È qua che non devo cadere, vero? No È qua che cadono cose a caso, sì Pianoforti Pianoforti Dov'è la X? Ma da lì ci sei arrivato Qua, è qua cado, vero? Sì Sì No, accetta Qua cado e dopo cadono di nuovo Ok Qua cado una volta giusta Ok E qua cado Quando mi stai soccombendo Ah, ok Deve saldare sul ponte Ponte Si, qualcosa Ponte è creato proprio dal nulla Quindi dal cazzo BOOM Ma l'utilità di quest'arma è solo la luce Che non lo sta facendo più neanche Eh, eh Non direi che Cos'è uno scivolo d'acqua Siamo A le vele A le vele Eh, vabbè Mi faccio male però Ti fai male così Eh Perfetto Ma che cosa ci si capisce? Cosa? 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 Il barile Cosa mi faccio? Cosa mi faccio? Il barile Vediamo dove arriva Ok Ah, si è uno scivolo d'acqua proprio Io adesso mi tengo un barile E lo uso per testare i pbcchi Si ricordi Oh Ma non c'è la luce Si 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 Il cielo Si spara lì mentre cade? Il cielo No, non l'hai sparato mentre cadeva Il cielo Ah, eh Magari dobbiamo uccidere il cefalfa con quello Magari dobbiamo sprecare tutti i proietti Si, si di sicuro Di sicuro Perché il cefalfa è proprio tipo uno schifo Un tipo da morire da Da pistolina Non cadere da dentro Lancia razzi Mi va bene, mi va bene Mi va bene, mi va bene L'altro lancia razzi Poi poi altre cose ragazzi Munizioni Sposta qua La? 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 Ci richiede Non c'è niente? Questa? Non c'è niente Vai va Una bombolk Spira, spero, non si rompa Perché ti ho appena sparato No, non sparare E perchedi E come Gesù Ha fatto bene venerdì qua Si Parto,ậutno mi si è Eccolo lì Lo fin tanto non mi siano ancora attivato Non so Hai mi scioccato Poi Qua, lì Non spiegare il cornello Basta, è finito di già Scusami amico E' una bomba era Era, anche li c'era C'è uno, c'è uno, c'è uno, c'è uno C'è uno in parte Dio di un pugno Va bene anche così Eh, oddio Dove sono? Là in fondo Hai finito il coso No ma uro Ok Ma c'è, non ha paulo Ma perché sparia tutto tranne loro Me lo spieghi Questo è un consiglio E non altro, no, scherzo Oh, il pinch 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 Dove è il pinch? Il mio pinch Il mio pinch Adesso dove sono? Sperto Lì, lì, lì La cosa In qualche modo oscuro Perché? Caccio Ok Perfetto Oh, ci pensa lui Ci pensa Whatafuck Ah lui? Adesso ti bioro Adesso ti bioro Ma può spararti? Sì, sì, può spararmi, può spararmi Eh, eh, lo dai adesso Eh, cosa fai? Cosa fai? Cosa fai? Cosa fai? Si è tranquillizzato? Si è tuo amico, lascia stare Cosa vuoi stare? Eh, il solito ostrogotto Ma proviamo a vedere se potessi No, vabbè io vado avanti Me ne frotte Io vado la E va con le cose lì Oh, me è fotte Io le salto Ah, proprio ero filmato da lì Ah Eh, cosa sarebbe questa roba? Cioè La visione del futuro Adesso ti parla Oh Le beccate ugliro No Fuggi dall'altra parte Fuggi Ah ok no, quella è la nostra, quella è la nostra, perché hai distrutto? no, non l'hai distrutto, non lo sparati oh, capo no, stai andando da parte sbagliata dove hai bisogno andare? a destra no, no, non è vero di là di là di là, di là, di là di là uh, qua c'è un amico non me ne fotte di voi non me ne fotte di voi oh, cavolo, 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 cavolo io vado qua, basta non puoi saltare col pinch devi saltare no, saltare con questa grotta ma non è una grotta no, ma non è una grotta è un niente, devi saltare devo metterci il pinch? si, metti giù il pinch, alla svelta anche bene ma salta da dove? no, da lì, a destra la sede, lì, salta tani oh, esplosi il milione di pezzi it esplosi it it esplosi it imperfatti in english english afro-americano oh, ma esplodono davvero? ho chiesto di un coso di su questa cos'è? niente no, 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 è qualcosa che lì mi preoccupa di più ma, 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 allora adesso ti miro ecco ecco dopo hai distrutto i cristalli cosa hai distrutto? i cristalli uoh eh, va bene eh, vai avanti non andarti lì, no, 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 no mi conosco, da crocia ok, ok fermi da croce l'ho curata poi no vai, 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 viene morto tante cose però niente che ci interesse adesso quanto va davanti? se qualcuno è da ammazzare no quanto va davanti? è l'energia del raggio qualcosa a violare? sì sì, ma c'è il visuale molto spesso no, posso violare qua perché fa che se non so lo sè? però vedo ah, è un coso perfetto ma come fai a violarlo che c'è una montagna in avanti? non lo so perché puoi violare le cose con una montagna in avanti? c'è prima c'è un pezzo di roccia non puoi violare le cose con una montagna in avanti e poi c'è anche questo che sarò lontanissimo non so scopri che tipo ce l'hai su vabbè cosa è strana è diventata ricomiglia ma cos'è questa? aspetta ah, boom eh, mini, mini ah, era in quella che ho girato forse sì quella è lì vai, ci fa qualcosa che non è riperto chi ti spara? chi ti spara? non è solo un attuto 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 salto cosa? non sono un attuto? ah, solo un attuto ah, solo un attuto cosa? cosa? qualcosa che diceva vieni qua lì lo so, lo so, lo so cosa c'è? perché sei sopracaricato? eh? che carico hai fatto per essere sopracaricato? eh, boh lo sai tu? posso saltare come Dio comanda o... o no? no, muoio e ti sbriglia posso saltare giù? no, no, non puoi saltare giù dov'è che devi andare? come Dio comanda che cacchio stiamo facendo? stiamo salendo su rocce per ogni... cos'è? la salita il leggerest ce l'ha fatta? ce l'ha fatta ce l'ha fatta questo mondo è giusto che credi come 40... cioè mancavano 200 metri adesso è 40 è bello perché hai fatto la salita di ottaglio di 90 gradi cacarello 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 ma perché? tra l'altro mi sta... ah basta, finito è stato centrato e mi sta rimanendo finito dov'è? guarda la cosa vai adesso si gira e dispara deve esserci un mentalista da vicinanza dov'è? adesso c'ho di nuovo ah no c'ho il cannone ciao amico ciao amico ma se gli sparo no 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 non sparargli perché comunque eccolo lì ok dov'è il mentalista? adesso con quella roba lì qua caduo e muoio come fanno essere dei mentalisti queste quelli qua? che cazzo è? c'è chi guarda? non lo so ma io vado qua che tanto faccio il video quindi ma stavo sparando alce e quindi mi salva ma stavo sparando alce il mentalista eheh e che di sicuro non sei più un essere umano tu non hai un... praticamente ma cristo santo guardati adesso guarda che roba sono un figuro? non lo so dove andare a 180 euro dove andare a 180 euro ma quanti? quanti mentre c'è? va bene però ragazzi per questo bisogna ci finirà quindi se vi è piaciuto lasciate un commento mettete mi piace iscrivetevi e lo so lei non se lo aspettava proprio di finire il video qua quindi bene ragazzi perché se mi spacchi la porta ti spacco io è diventato giorno come sei che le fate tutti no 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 tu vabbè non prendi fuoco prendi fuoco Ah, 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 meglio di come. Non lo rifarò mai più.